Oh, jeez, here we go. Federico? And Aldo? And Fabrizio? In the same room. What is this? A crossover episode? You know, that gets funnier every time. E ben tornati a spin-off. Questa è la 3x13 e in questo caso mi sento di dire bonsoir, specialmente Aldo che è tornato in terra natia. Bonjour mademoiselle. Com'è andata la scappatella in Francia? Sei tornato con due baguette sotto le braccia? Sono tornato con una baguette nelle mutande. Ma guarda. No, sto scherzando. Comunque no, tutto bene, grazie per avermi accolto nuovamente nello studio di spin-off. Vorrei poterti dire che ci sei mancato, ma mentirei. Tanto lo so che vi sono mancato, anche se non me l'ho dita. Più che altro Federico non aveva nessuno a fermarlo. Faceva stronzate su stronzate e non c'era modo di placarlo, perché Valerio forse non si osava dirgli ma che cazzo dici Fede? Noi ormai dopo tre stagioni ci abbiamo fatto l'abitudine quindi, soprattutto Aldo che vive di contraddizioni ai danni di Federico. Si nutre di questa cosa. Esatto. Sì, sì, sì. Io mi nutro di fastidio, diceva ai tempi il buon Chaos One. Vabbè, comunque, a parte questo, sono tornato. In realtà ero già qua quando stavate registrando. Non ero fisicamente a casa, ma mi stavo muovendo verso Brescia. Vi pensavo. Mi fa piacere che tu non sia arrivato a casa in tempo. No, in realtà sono arrivato in casa in tempo, ma non avevo voglia di attaccarmi al PC. Quindi mi sono fatto una doccia, ho mangiato una bella pizzetta e dopo mi sono messo a guardare delle serie TV che non recensirò Federico, scusami. Va benissimo così. Ups. Un comportamento proprio da francese. E non mi sono fatto ancora il bidet da quando sono tornato. Va bene. Invece un caloroso bentornato al conduttore preferito da me medesimo, Fabrizio, da Scozia Centro. Ciao a tutti. Era facile, visto che l'altro era Aldo, essere il preferito. Non mi prenderò troppi meriti per questa affermazione. Va bene. Parliamo del tema della puntata. Quest'oggi ritorniamo con le nuove serie TV di questo mese di dicembre che, devo dire in maniera elegante, piuttosto deludenti. In maniera meno elegante c'è un casino di merda che arriva tutta come un fiotto e mi azzardo a fare un'accusa neanche tanto velata. I due shopperi, sceneggiatori e attori, cominciano a farsi sentire. Questo non giustifica il fatto che vengano mandate tutte queste serie TV di merda sulle piattaforme, però. E' tutta roba straniera, principalmente, cioè che viene dal mercato estero e viene portata su Netflix, Disney Plus e compagnia bella. E sono gli unici che potevano scrivere. Poi fa cagare. Il problema è che ci buttano tutta la merda coreana che loro non guardano. Credo che a noi arrivi veramente il fondo in questo momento. Perché da quello che ho visto, anche sul lato latino e quindi anche i vari spin-off o utilizzo di attori della Casa dei Papel per fare altre serie, non aiuta questo dicembre di serie televisive. Anzi, il livello di cringe si è alzato in maniera importante in questo dicembre. Continuerò a guardare Alias. Ma a proposito di cringe. Faremo una puntata a parte su questa cosa, ci arriveremo. Dico solo, sulle 23 che ci sono in arrivo questo mese, ci sono 5 serie coreane. Una olandese, una francese, una colombiana, due spagnole, una italiana, una brasiliana e un paio di inglesi. Ma è così. È l'inizio di una barzelletta quindi. Ah, è una giapponese che so già che guarderete che è la concierge Pokémon. Giapponese ma con un po' di francese. La concierge. Sempre per Aldo che è stato in Francia. Sì, sì, esatto. È tutto un ciclo, si chiude tutto qua. Partiamo subito con le serie tv in arrivo su Disney+. E ci fermeremo semplicemente annunciando il titolo della serie brasiliana a Historia Delas. Penso che sia Delas, senza Delas perché non ce la c'è, però sono spagnoli. Ah, adesso parli anche portoghese. No, no, no. Fai quello anche sudolingo o cosa? No? Ok. Quella lingua di merda. Ma tutto rispetto, eh. Eh, ma questo è brasiliano. Che cosa parlano in Brasile? Parlano in brasiliano. Che è un portoghese un po' diverso. Tra l'altro se tu ascolti il brasiliano, secondo me è più facile da capire rispetto al portoghese. Guarda, io ho guardato 3% che è la serie tv, sempre di Netflix, che è finita non da tanto tempo. Ed è la merda la lingua, cioè è proprio inascoltabile. Sembra sempre che ti stiano tirando per il culo mentre stanno parlando. Mi dava fastidio un sacco guardarle. Ti racconto le robe e sembra che ti stiano pigliando per il culo. Fastidiosissima. E di cosa parla? Historia Delas. Tratta la storia di questa donna che era un'extata che è costretta ad ospitare il suo ex capo e sua figlia a causa di una decisione del tribunale perché il marito della sua ex capa è stato arrestato. E quindi cominciano una serie di situazioni in cui madre e figlie dovranno unirsi per affrontare queste delicate questioni del passato e riconsiderare le difficoltà della propria relazione fino a trovare i loro nuovi ruoli. Sono già interessato io. Sì, perfetto. Allora, una serie tv venduta. Andiamo alla prossima. Venduta 1, anzi, storia Delas 1. 2, 3. Venduta al numero 13, là in fondo. Sulla BBC, ma quindi anche su Disney Plus, proseguono gli speciali di Doctor Who. Ci sono ben due speciali in uscita, per concludere i tre, che celebrano il sessantesimo anniversario. Uno il 2 dicembre, uno il 9 dicembre e a Natale, come da tradizione praticamente, o almeno in più delle volte, quest'anno esce anche lo speciale che si chiama The Church on Ruby Road, sempre scritto da Russell T. Davis, che è il nuovo showrunner. E penso che possiamo già confermare quello che abbiamo detto nella scorsa puntata, ovvero che Valerio da Viterbo, zona industriale, ritornerà a essere ospite in quanto massimo esperto di recente serie per Doctor Who. Tra l'altro ho visto i trailer, perché io non l'ho ancora visto, ho la prima parte di questi speciali, ho visto solo i trailer. Mi è sembrato un tono molto più solenne, molto più action rispetto al solito. C'è appunto il grande ritorno di Tennant, e quindi ci voleva un pochettino di atmosfera per ricreare l'hype, però mi è sembrato proprio un tono differente, più serio rispetto al solito. Tu l'hai visto? Sì, sì, l'ho visto, invece non mi ha fatto impazzirissimo. Non mi è dispiaciuto, però mi sembra sempre la solita storia. Non riesco più a trovarci questa grande profondità, sarà anche lo speciale, quindi ti dà soltanto un pezzettino della storia. Poi, ripeto, non ho questa conoscenza che può avere magari Valerio a livello di serie storica di Doctor Who, quindi ci colgo magari meno della metà delle cose, però mi ha detto veramente poco. Ho capito il concetto di riprendere un po' tutti i personaggi del passato per cercare di dare una chiusura. Per adesso sto sulla sufficienza verso sei e mezzo, non di più. Tu invece ti ha convinto in toto? E se ti ha detto che non l'ha visto? No, io ho visto il trailer, lui mi diceva del trailer. No, no, lui ha visto la puntata? Io ho visto la puntata e gli stavo chiedendo a lui se non l'aveva convinto oppure no. Il trailer però io ho visto. Sì, 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 sì. No, no, te l'ho detto, è che ha dei toni molto diversi dal solito, quindi mi ha incuriosito. Non so dirti perché appunto il trailer mi ha pompato abbastanza, però puoi anche essere bravo a montarlo e basta, quindi vedremo poi. Perché c'è Tennant, tu dici. E anche, sì, sì. Lui veramente ogni cosa che fa, secondo me, cioè, tocca e diventa oro. Mi piace da morire. Allora, fa sicuramente la sua porca figura e poi diciamo che dopo gli ultimi due dottori ci sta un stack un po' cazzaro, quindi lui ha un po' quel tratto un po' più leggerino rispetto ai precedenti, quindi ci può anche stare. Mi dirai prossimamente come ti è sembrato effettivamente la puntata. Assolutamente. Possiamo proseguire parlando della vera serie chiave per il mese di dicembre di Disney+. È una serie Marvel? No, sto parlando di Soundtrack No. 2, K-Drama. Wow. Soundtrack No. 2 perché c'è stato un Soundtrack No. 1. Cazzo, l'ho perso. Eh sì, però non ti preoccupare, se ti guardi il trailer come ho fatto io, puoi serenamente scoprire che la storia di questi due amici si evolve nella prima stagione perché si mettono insieme, si innamorano e ti dico anche che finisce la prima stagione e che si mollano. Ma perché mi devi fare questi spoiler? È il trailer. Sto solo dicendo quello che il trailer mi dice. Sì, ma se mi fai degli spoiler, Federico... Ma tanto non guardi cose coreane, quindi... Poi sono dei colpi di scena così incredibili. Nessuna serie, credo, che abbia mai finito la sua stagione con una coppia che si molla. È innovativo al massimo. Sì, infatti la seconda stagione è solo incentrata su una domanda. Potranno rimettersi assieme? Quante puntate? Non lo so, non lo voglio neanche sapere. Ma mi immagino solo che terminerà con loro che si mettono assieme, ma solo nel finale. Così ci sarà un soundtrack number three in cui si sposeranno, avranno bambini. Ah, ma quindi è tipo la versione brutta della trilogia di Before e di Link Later? C'è la versione quella fatta con due soldi? Dirò di sì senza sapere di cosa stai parlando. Dai, Federico, ma seriamente. Before Sunset, Midnight, Sunrise. Richard Linklater. Fabrizio? Ethan Oak. Non lo so. Ma no. Non mi puoi accusare qua. Dei minoranza. Ridimi un attimo i titoli. Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight di Richard Linklater. Il regista di Boyhood. Fabrizio, cercare su Google non ti aiuterà. Se non lo sai, non lo sai. No, no. Ho cercato su Google per vedere perché a volte mi dicono i titoli e magari li so in italiano dalla mia infanzia, ma no. Confermo che non ho visto nessuno dei tre. È una bellissima trilogia di film leggermente romantici, ma molto dettati sull'animo umano. Per me ti piacerebbero, Fabrizio, però. Li terrò in considerazione. Anche io, Aldo, lo terrò in considerazione. Ma prima guarderò Such Brave Girls di BBC Free. Big Black Cock vuol dire tre. Per quello che sono così delle brave ragazze coraggiose. Di cosa parla? Allora, sono sei puntate che sono scritte e interpretate da Kate Sadler, una comica attrice britannica. Ovviamente, visto che A24, ormai è praticamente più un brand che una casa produttrice, viene sbandierato nel trailer che è prodotto da A24, il che funziona benissimo con me e probabilmente anche con voi due che... No. Ecco, con uno dei due, perché Fabrizio stava facendo sì con la testa. Ma non è vero. Sì, ho visto che stai facendo così. No, no. Avevi fatto così? No, vabbè. Va bene, va bene. Non mentire. No, scusate, scusate. Non mi sono reso conto di fare sì con la testa, scusate. Sei come Pietro Sermonti nel Migliore dei Mondi e fai i gesti... Sbagliati. Non è proprio una versione sitcom, ma una versione comica di una famiglia che è composta dalla madre e due figlie che sono un po' narcisiste e sono estremamente ossessionate da cosa la gente pensa di loro. E quindi tutto ruota intorno a alcune problematiche con scene abbastanza, come dire, altisonanti nel trailer. Tipo la madre che parla con una delle due figlie dicendo l'errore più grande della mia vita è stato rimanere incinta di tua sorella e poi la telecamera fa zoom out e la sorella è là che dice quindi è questo il momento in cui devo lasciare la conversazione e la madre fa ah, non sapevo fosse ancora qui e sono tipo a 20 centimetri di distanza. Faccia a faccia. Quindi cose del genere. Umorismo British un po' too much forse per alcuni palati, però secondo me non male. Sei episodi mi proverò a dare una possibilità specialmente perché esce il 15 dicembre e in un calendario abbastanza vuoto o con pochissime cose degne di essere viste sei puntatine così me le sparo anche volentieri a Natale. Io no. Perfetto. Mi sa anche io. Allora, come qualità magari può emergere ma solo per contrasto con le altre che fanno cagare perché io personalmente non lo sceglierei come prodotto per un recupero da fare durante le feste. Piuttosto mi guardo qualcosa sono sicuro che non sarà una minchiata tanto ce n'è di serie anche da pochi episodi singola stagione ma non andrei di certo su Such Brave Girls poi non lo so. Maschilista ho capito. A parte che da che pulpito arriva la predica ma a parte questo non è maschilista qua non sono probabilmente io il target di questo show così ce la risolviamo sempre in diplomazia. Sì, ok. Allora andiamo all'ultima serie di Disney Plus che è anche quella in cui a pelle sono stati vestiti più dindini stiamo parlando di una serie adolescenziale che si chiama Percy Jackson e le idee dell'Olimpo ovviamente il nome non è nuovo perché la storia di Percy Jackson creata da Rick Riordan è piuttosto nota una esalogia come il numero di romanzi con un settimo capitolo in uscita l'anno prossimo e cosa diventerà quando uscirà il settimo capitolo? Penso sia una eptalogia e otto? Octalogia e lo sai vero che Such Brave Girls è uscito a novembre e non a dicembre? Su Disney Plus c'è 15 dicembre ok devo vedere se ripreparato sono già uscite quattro puntate parlando un attimo di questo Percy Jackson l'idea dell'Olimpo se vi ricordate Percy Jackson è già uscito al cinema due volte nel febbraio 2010 e nell'agosto 2013 il primo si chiamava Percy Jackson The Lightning Thief e il secondo era Percy Jackson Sea of Monsters non ha avuto così tanto successo e ottimo passaparola il protagonista era Logan Lerman e c'era Alexandra D'Addario come protagonista dei film insieme a lui e c'era Zeus interpretato da Sean Bean e adesso risveglio alto dal torpore perché Kevin McKidd era Poseidone ah madonna Kevin McKidd Dio santo quello di Grey's Anatomy ma in quale nel secondo nel primo pensate che ricordo di ogni quel film lì non me lo ricordavo neanche Persephone era interpretata da Rosario Dawson c'era Stanley Tucci nel ruolo di Dionisio Nathan Fillion nei panni di Hermes e chicca per Fabrizio per svegliare la torpore Robert Knepper o Knepper che Dio si voglia era Kronos T-Bag allora io l'ho sempre chiamato Knieper non Knepper che fa Kronos lui sì un attore particolare lui una volta che l'ho scoperto come T-Bag è stato difficile poi vederlo in altri ruoli al di fuori di quello ebbene sì comunque ritorniamo a Percy Jackson un'idea dell'Olimpo perché è la scommessa di Disney Plus uno dei pochi progetti con taglio adolescenziale che non sono ancora stati sfruttati a dovere sono otto episodi in uscita settimanale con i primi due dal 20 dicembre terminerà il 31 gennaio ha per protagonista un nuovo Percy Jackson che è un giovanissimo attore chiamato Walker Scoble che ovviamente non nessuno ha mai sentito non ci sono attori famosissimi nel cast a parte Glyn Thurman non vi dirà niente come nome ma se guardate su Wikipedia bel faccione se lo ricorda e purtroppo c'è anche Zeus interpretato da il compianto Lance Reddick al suo ultimo lavoro comunque Percy Jackson è la versione light di Gen V c'è qualcosa in comune solo che Gen V è arrivato dopo forse The Boys viene prima sai che non lo so è una bella cosa è nato prima The Boys o Percy Jackson? 2006 The Boys noto delle somiglianze non che siano uguali i due progetti però sono più o meno i soliti discorsi apprezzo il taglio greco che viene dato al tutto il problema di queste cose qui è che gli americani americanizzano tutto bisogna sempre vedere come lo adattano ovviamente noi tre non siamo il target a cui questo prodotto si riferisce però una cosa che vorrei far notare è che il creatore Rick Riordan è anche creatore della serie tv quindi almeno è apprezzabile il fatto che l'autore sia anche showrunner che parte del progetto e anche ha scritto tre delle autosceneggiature insieme al collaboratore che si chiama Jonathan E. Steinberg che Aldo dovrebbe conoscere adesso se gentilmente non cerchi su Google ti dico io che è il co-creatore di Jericho eh micca fede eh nono glavia capolavoro capolavoro io non l'ho mai detto prima di tutto Fabrizio poi per piacere mi incontro capolavoro non penso che l'abbia mai detto aveva detto che lui vorrebbe un remake di Jericho fatto oggi perché è una storia valida però fatta diciamo in un tempo magari scarsamente provvisto di tecnologia ecco fede perché lui si ricorda quello che dico e tu no? perché è fazioso come te e vi date mani forze ma andiamo avanti allora sei tu che menti di continuo no no è un paro torniamo a parlare di serie tv perché adesso ci spostiamo su Netflix la miglior serie tv del mese parliamo subito dai Berlino? no The Crown? no neanche quella Sweet Home? basta no ok parliamo di 1670 è una delle 13 serie tv in uscita da parte di Netflix in questo mese 13 ok 13 su 23 la chicca è che adesso andiamo a spolciare la lista e come potete vedere di americane slash inglese ce ne sono meno di tre 1670 è una comedy polacca penso di poter dire a nome di tutti che questa è la prima serie tv polacca che noi notiamo e che ho sentito dire da Aldo offline è la mia nuova serie preferita la guarderò di sicuro allora la guarderò di sicuro ok ma la prima parte è la mia nuova serie preferita non c'era nel discorso minimamente proprio ok vuoi dirci perché la vuoi guardare perché sembra essere una serie carina che fa ridere è una comedy sono 20 minuti forse 25 puntata spero perché se è più lunga mi sparo quindi mi accontento di quello non sono un uomo con tante pretese incredibile voglio solo vedere dei polacchi che mi fanno ridere tra l'altro io ho già visto una serie tv polacca su Netflix l'ho anche recensita 1983 era sempre il fatto che abbia vista Aldo diventa un deterrente il 13 dicembre esce ufficialmente questa serie tv di cui non siamo a conoscenza del numero di episodi non è stato condiviso è completamente in polacco speriamo che non la traducano con un altro titolo in italiano per adesso l'aggiunta non c'è ancora arrivata vediamo vede per protagonista Jan Adamczewski che è un nobile polacco capofamiglia di Adamczewski sono una famiglia polacca-lituana che fa parte di questo commonwealth e realmente è esistito nel XVII secolo e come potete vedere dal trailer questo Jan Adamczewski prova a godersi la vita e a farsi amare da tutta la gente che abita nel suo regno con conseguenze abbastanza divertenti specialmente quando va a che fare con dei bambini poveri che giocano nel fango e questo è il motivo per cui Aldo la guarderà perché sono i bambini che giocano nel fango con un teschio e delle ossa tra l'altro Famiglia tu l'hai visto il trailer? Sì ti ringrazio perché il trailer l'ho visto in polacco con sottotitoli in russo credo quindi non ho capito nulla di quello che ho visto e adesso che mi hai detto un po' la trama ricollego alcune cose che ho visto sì sinceramente era una delle poche forse due o tre che potrei pensare di recuperare vorrei citare che oltre a questo è in uscita la seconda e ultima parte di The Crown della sesta stagione in uscita esattamente il 14 dicembre con gli ultimi sei episodi post Diana perché questa è la cosa principale il primo dicembre invece è uscita sorpresa la seconda stagione di Sweet Home serie tv coreana horror con otto episodi invece che dieci io e un altro pari di recensori l'avevamo recensita perché è uscita nel dicembre del 2020 epoca in cui qualsiasi cosa venisse fuori da Netflix fosse un po' diversa dal solito specialmente in un mondo fatto di lockdown covid e distanziamenti la si guardava io mi ricordo che la CGI faceva veramente schifo e questo è un grosso problema soprattutto se si parla di una serie che parla di mostri la CGI forse in Cine giusto un po' tu mi insegni da Monarch Legacy of Monsters tra l'altro scopro ora in diretta che Netflix ha rinnovato la serie anche per la terza stagione top sei contento? no ora non sono più così contento come l'ero prima ero poco contento prima vedi è un trangugiatore di merda professionista come te non sei contento? no un sommelier dello sterco come te esatto come fa? parlando di sterco io mi sento molto sicuro di dire che la creatura di Jiang Seong o come è scritto lo pronuncio Jiang Seong potrebbe riservare grosse sorprese grosse sembra esagerato può riservare qualche piccola sorpresa dai mi vuoi spiegare il perché di questa cautela? ma innanzitutto perché arriva in un momento dove come abbiamo già detto ci stanno tirando addosso tutta la merda che avevano in magazzino per il primo momento di magra e quindi è facile farsi trarre in inganno secondo il trailer covisto si va bene rispetto agli altri prodotti del sollevante che abbiamo avuto in questa lista forse è superiore ma da lì a dargli tutte queste possibilità non lo so Fede mi sembra quantomeno avventato vorrei che tu mi dicessi qual è il motivo che ti ha spinto a pensare che questa serie potrebbe riservare delle grandi sorprese innanzitutto mi piace l'ambientazione perché è ambientato nella prima vera del 1945 in questo posto chiamato Gyeongsong Steyong chiamatelo come cazzo di fare durante la colonizzazione giapponese della Corea è ambientato in un ospedale in cui praticamente ti fanno capire che questo ospedale da campo non è semplicemente gestito per esseri umani ma anche per creature mostruose che ovviamente uccidono gente quindi comincia tutta questa situazione del survival drama o survival horror che a me piace questi ambienti chiusi dove la gente non può scappare o comunque può scappare in maniera limitata e il fatto che sia ambientato nella seconda guerra mondiale praticamente è un valore aggiunto una cosa che però non mi è piaciuta molto è che se tu guardi diverse sequenze soprattutto all'aperto sono un pochettino non so finte mi viene da dire si vede tanto che è tutto fasullo più fasullo di One Piece nel trailer o meno? vabbè adesso non esageriamo quello è proprio gente vestita da gelatai quindi quella lì qui ci provano almeno a vestirsi da militari però se guardi la qualità visiva non è proprio il massimo tu non hai visto la CGI di Sweet Home la creatura di Jiung Seong cioè mi bacio le mani no io non sto parlando della CGI qua io sto parlando delle scenografie dei costumi mi sembra un po' tutto posticcio ecco non sono sorpreso però gli do una chance l'unica cosa è che sono dieci puntate vai poi ci dirai che inculata ti sei preso esatto questo ha del potenziale per essere negativo fosse stata da sei puntate sarei rimasto molto più contento comunque i primi sette episodi escono il 22 dicembre gli ultimi tre escono il 5 gennaio vai a capire perché non è ben chiaro quindi è un inculata a tempo oltretutto esatto ora tutto fede punta in quella direzione lì secondo me fai una cazzata qua ti saprò dire mi guardo sicuramente il pilot quello si ma si no ma la guardi tutta adesso l'hai detto hai detto che sarà la tua serie preferita del mese ho detto tante cose e questo è vero parlando di serie preferita del mese Fabrizio quando sei contento da 1 a 10 che Berlino esca il 29 dicembre come sequel spin off della casa dei papel o in italiano arrivata come la casa di carta sono amareggiato forse più o meno rispetto al sequel di Suburra il sequel di Suburra è meritato è un bel sequel dopo averne parlato malissimo Aldo a priori adesso guarda qua Federico abbiamo detto che semplicemente Suburra era finito molto male perché la terza stagione è stata effettivamente una merda e Fabrizio come altri recensori concordano tranquillamente e quindi c'erano poche aspettative e invece tutto sommato hanno tirato fuori un sequel che riprendendo le tematiche che erano quelle di Suburra del film e delle prime stagioni quindi chiesa politica criminalità l'hanno tirata fuori bene questa stagione poi ci sarà un proseguo probabilmente perché faranno un'altra stagione probabilmente però Suburra Eterna tutto sommato a nostro avviso all'avviso di Recenserie non di Aldo da Brescia è un consolidato sette perché sono stati tutti fanc bene allora per rispondere alla tua domanda comunque sicuramente a prescindere sarei stato più amareggiato per Berlino perché è lo spin off di una serie di merda Suburra non è una serie di merda ha solo avuto il problema di questa chiusura diciamo un pochino rocambolesca però nel complesso non è mai stata una serie bocciata fin dall'inizio questa è una minchiata questa è una trashata ecco invece La Casa dei Papel dopo circa due episodi era già chiaro quale sarebbe stato l'andazzo e tra l'altro ruota torna un personaggio che secondo me non doveva essere più toccato dopo la prima stagione perché nel momento in cui l'hanno ripreso l'hanno rovinato completamente già con i flashback nell'ultima stagione della Casa dei Papel adesso addirittura ci fanno uno spin off dove sicuramente lo renderanno ridicolo il trailer secondo me già in parte lo mostra e quindi non sono per niente contento non lo guarderò assolutamente questo è chiaro che mi sono già rovinato l'esistenza con La Casa dei Papel una volta può essere che lo voglio guardare giusto per pigliarlo per il culo ma ho paura che poi mi ci incastrano ancora fanno un'altra stagione non si sa quindi ho paura anche c'è timore è molto timore però non so se tu Aldo l'hai visto il trailer di Berlino mi è sembrato proprio uno di quei trailer confezionati per tirarti su al lamo ma neanche tanto bene secondo me perché si vede già in molte occasioni che andrà una deriva trash quasi immediatamente ho iniziato a guardare il trailer pensando tipo qualche poliziesco berlineso ho detto potrebbe essere carino apro il trailer parte questo faccione di sto tipo ho detto ma cavolo mi sembra di averlo già visto ma è questo qua contestualizzo non ho guardato La Casa dei Papel ce l'ho lì da recuperare perché visto che ne ho parlato tutti voglio vedere anch'io quanto fa schifo e basta non per altro l'opzione quest'estate era Slenderman o La Casa dei Papel e Aldo ha scelto Slenderman perché durava meno solo per quello però La Casa dei Papel ha la cosa positiva che non è una cosa positiva però per loro è sicuramente una cosa positiva che non puoi smettere di guardarlo è incredibile può farti schifo la morte è tipo un incidente stradale cioè non vorresti guardarlo ma lo guardi ed è incredibile perché è costruito tutto su cliffhanger stupidi che poi vengono immediatamente capovolte all'inizio dell'episodio successivo ma io Aldo pensavo che tu avessi visto il trailer di Berlino a Parigi perché? ah per fare la battuta a Berlino-Parigi no un coglione perché è ambientato a Parigi come si può vedere benissimo dal trailer che cazzo di trailer hai guardato dai non vi avete fatto finire di parlare io ho guardato ah incredibile adesso è colpa nostra ah ok va bene scusa posso parlare oui oui ho avviato il trailer ho visto i primi 5 secondi che apparevo al faccio di questo qua ho dedotto che non fosse niente di quello che pensavo ho capito il collegamento con la casa di papello ho chiuso subito molto bene quindi vedi invece di parlare a priori senza sapere dai fiatolo alla bocca solo quando capisci tutto Federico hai parlato due minuti di un trailer di cui hai visto 5 secondi detto questo possiamo passare alla prossima serie di cui hai visto il trailer che puoi parlare della Concierge Pokémon il trailer dura 20 secondi di che cosa cazzo non è vero no c'è il trailer a due minuti sì c'è il trailer più lungo ah ok visto che anche qua sei impreparato Fabrizio cosa ne pensi sono 4 episodi escono tutti assieme e minutaggio tra i 15 e i 24 minuti comunque lo guarderò Fede grazie per avermelo chiesto Berlino mi fa molto il piacere no devo dire che mi piace molto l'idea della stop motion per i Pokémon sono un grandissimo amante dei Pokémon sono un Pokémon master sono circondato dai Pokémon anche in questo momento l'unica cosa è che non credo che il cartone in sé sia adatto alla nostra età ecco mettiamola così sembra un prodotto più per bambini come è giusto che sia per carità mi piacerebbe che in realtà venissero esplorati i Pokémon in maniera più alla Detective Pikachu quindi più adulta però mi piace molto l'idea è veramente carinissimo come esce fuori soprattutto i Pokémon perché i personaggi hanno questo design che ricorda di più quello secondo me dei videogiochi che dell'anime quindi non mi piace tantissimo devo dire lo guarderò perché ovviamente lo guarderò ma non credo che sarà una di quelle cose per cui mi strapperò i capelli capolavoro ecco sembra di vedere gli sprite di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee più o meno eh sì ricordano un po' quelli secondo me è una buona idea la stop motion e dovrebbe essere utilizzata anche per fare altre cose però va bene magari questo è tipo un esperimento vedremo come andrà tipo i porno perché devi dire queste minchie vabbè un porno in stop motion secondo me è interessante delle statuette in plastilina che fanno sesso in stop motion ho appena dato l'idea che vale decine di migliaia di milioni di euro ma non lo so non sono sicurissimo ma va bene vediamo cosa succede nei prossimi mesi se questa idea viene utilizzata tu potrai un giorno portarla in tribunale dicendo che l'avevi inventato tu e lo farò parlando di cose di cui sono fiero perché le ho inventate io ci sono ben due K-Drama K-Drama è un po' eccessivo K-Sentimental una si chiama Benvenuti a Sam Dal Ri e l'altra si chiama Like Flowers in Sand vi basta sapere che nel primo ci sono storie romantiche il secondo invece è ugualmente una band vera mi pare ma per me tutte le band K-pop sono uguali per cui sono troppo vecchie ormai per queste puttanate cosa più interessante invece è che tutti i miei pregiudizi su Marsiglia sono stati confermati dal 3 della serie TV Pax Massilia che adesso immagino non si pronuncerà così ma Aldo può correggere l'ho visto i weekend francese ma non è tipo in latino ma infatti è latino Pax sei te quello studiato è ambientato in Francia per cui fai l'accento francese dai non è francese è latino Federico no la serie TV oui oui cosa devo dirti va bene così a me onestamente è sembrato una suburra francese posso dirlo esatto c'è anche il momento in cui parlano di Marsiglia dalla parte del mare sembra un po' il momento spiaggia di Ostia ci sono diversi parallelismi secondo me fra le due serie questa serie TV esce il 6 dicembre è composta da 6 episodi e ha 6 protagonisti più o meno 5 sono un gruppo di poliziotti che hanno dei metodi abbastanza particolari nel gestire le situazioni di criminali si mettono sulle tracce di un pericoloso criminale che sta per iniziare una guerra tra gang a Marsiglia pertanto devono provare a bloccarlo prima che questo accada non mi dispiace magari la potrei guardare se non fosse francese ma questa cosa mi limita tantissimo non credo che sia degna della mia attenzione voi invece la guarderete? no non mi sembrano di quei prodotti fondamentali da aggiungere alla mia già infinita lista di serie tv ora bisogna scegliere solo quelle giuste non solo quelle che ti consiglia Federico questo è chiaro questa non l'ho consigliata ne consigliata di merda veda si io sono il re della merda andando velocemente voglio solo citare la serie tv colombiana dei influencer uno dei trailer più imbarazzanti che abbia mai visto in vita mia signori se lo dice Federico state attenti poi c'è in uscita anche una serie tv olandese si chiama Knocke Off sembra più un teen drama dalle tinte fosche e poi c'è uno splendido errore che in realtà in inglese si chiama My Life with the Walter Boys tratto dall'omonimo libro di Ali Novak tra i protagonisti mi sento di citare solamente Mark Blukas che era Riley Flynn in Buffy il militare e c'è Sarah Rafferty che era Donna in Suits guardando il trailer di questa ragazza ricca che si trasferisce in mezzo a nulla in Colorado mi ha ricordato un po' una specie di OC ma versione femminile molto cheap anche si esatto se vuoi anche un po' Everwood sono dieci episodi in uscita del 7 dicembre io non mi sento il target di questa serie tv ma Aldo nessuno ti accusa di essere un adolescente nel caso tu voglia guardarla sicuramente lo guardo infatti c'è Ali Novak la mia scrittrice di Wattpad preferita che non è né producer né sceneggiatrice né protagonista allora scendo in piazza a protestare perché lei doveva essere parte del progetto comunque questo è quanto per quanto riguarda Netflix la monnezza che ci siamo tolti ma attenzione perché non è finita no io non ho delle sensazioni ottime per la seconda stagione di Doctor Death però mi sento di poter essere in errore ti dico subito perché Aldo ho paura di questa cosa è perché Edgar Ramirez e i Fu nel Gianni Versace non è proprio uno che ci azzecca molto con le serie tv con i ruoli sinceramente lui non lo conosco perché non ho visto The Assassination of Gianni Versace sono cambiati i creatori o altro della serie no no sono gli stessi quindi ti direi se dietro la produzione sono sempre gli stessi nomi certo tu potrai dire non abbiamo più Joshua Jackson abbiamo non ci sarà più Joshua Jackson non ci sarà più Christian Slater e non ci sarà più Alec Baldwin è una serie tv antologica c'è la seconda stagione su un altro dottore che uccide i pazienti però questo per dire ne abbiamo persi tre che avevano un certo peso recuperiamo con Edgar Ramirez che tu mi dici non essere questo granché e c'è Mandy Moore di This Is Us che a mio avviso è una ottima attrice invece ti do altri due nomi importanti secondo me uno è Jack Davenport ah c'è Judy Reyes l'amica di Fabrizio anche esatto il tuo personaggio preferito di Scraps Carla? si eh si 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 comunque questa stagione come la prima sono otto puntate in uscita tutte il 21 dicembre su Peacock quindi in Italia bisogna vedere un po' come tira il vento la prima stagione era stata distribuita su Stars Play ma essendo che Stars non esiste più rimane un punto di domanda è molto probabile che non uscirà in contemporanea questo poco ma sicuro di cosa parla? molto velocemente il nuovo protagonista Edgar Ramirez interpreta Paolo Macchiarini una persona realmente esistita e ancora in vita Italo-Svizzero perché ricordiamo che il Dr. Def è tratto da un podcast che si occupa esattamente di storie di chirurghi famosi che in realtà hanno ucciso due o tre operazioni chirurgiche Paolo Macchiarini è stato accusato di frode e di avere un comportamento manipolatorio comunque lo recensiremo sia io che Aldo e davvero? sì Aldo io no se nel gruppo è già diviso le puntate quindi poco da far finta ci spostiamo per la quarta ultima serie su Prime Video si chiama Gigolo per caso penso che Fabrizio la guarderà perché c'è Christian De Sica per protagonista questa dovrebbe essere la ragione per cominciarmi a guardarlo sì De Sica e Sermonti ma soprattutto De Sica trailer non ne ho visti però non c'è un trailer perché è troppo difficile fare un trailer per qualcosa che esce fra tre settimane comunque sono solo sei episodi se questo può rincuorarti e c'è anche Ambrangiolini nel cast insieme a Frank Matano e Asia Argento mi hai dato un motivo dopo l'altro per non guardarlo mi hai sfinito proprio mi hai letti tutti posso aggravare il tutto dicendo che Frank Matano interpreta un personaggio chiamato Don Luigi quindi un prete no non hai detto magari fai un mafioso non sono più così positivo come quando mi hai detto i primi due nomi 20 secondi e hai cambiato tutto passerei direttamente al prossimo tra l'altro piccola curiosità come al solito prima mi avete detto Gigolo per caso e quindi ho scritto Gigolo per caso trailer e mi è uscito il film di Torturro con Torturro e Woody Allen e io ero convinto che fosse quello poi avete visto a dire Sermonti De Sica e ho detto che cazzo c'entrano Sermonti De Sica con Torturro Fabrizio ha sempre questo vizio di guardare il trailer sbagliato sì però guardo sempre cose che comunque escono più o meno nello stesso momento che si chiamano allo stesso modo è del 2013 il film però ah ok allora niente immagino che questo qua sia un film che hanno tenuto lì nel cassetto in caso di sciopero degli sceneggiatori degli attori quindi è stato effettivamente girato nel 2013 ma esce ora lo tenevano in serbo per una grande occasione eccola qua la grande occasione parliamo un secondo di I Farad titolo spagnolo originale in realtà è Lost Farad la trama dal trailer è che un ballerino coreografo si innamora di una ragazza e la ragazza lo porta a conoscere il padre e il padre è un produttore di armi ovviamente gli dice sì fare un cazzo il tuo lavoro io amo tua figlia bla 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 alla fine viene invischiato in traffico da armi e quant'altro non sembra ci sia una trama oltre a questo ma ovviamente c'è quel solito rapporto strano tra padre e genero non la guarderò penso che tra tutti i trailer spagnoli o latini che ho visto negli ultimi sei mesi questo possa essere uno dei migliori tu pensa mi azzarda dire questo e tra l'altro scusa questo qui è quello che come protagonista ha l'altro della casa dei papel ah sì hai visto il trailer giusto ovviamente sì ovviamente per questo che ti sto chiedendo perché così almeno se ti dico i personaggi ti dici no guarda che non c'è allora dico aspetta ho guardato il trailer sbagliato non ho visto la casa dei papel per cui non ho idea ma probabile comunque esce il 12 dicembre ci spostiamo su sky per le ultime due serie la prima si chiama smuffered o come piace chiamarla a me smothered smammato è una serie tv di sky comedy di sei puntate in uscita del 7 dicembre praticamente tratta di una coppia che si incontra un karaoke e comincia una relazione abbastanza casual da scopamici tradotto in maniera che lascia meno all'immaginazione friends with benefits direbbero in francia con la condizione che l'essere scopamici è limitata per un tot di tempo dopo il quale devono praticamente cancellarsi i numeri di telefono e non si devono parlare più però la cosa va avanti e dopo un paio di settimane il trailer si conclude con lei che ha cambiato idea ed era quella che spingiva per interrompere la relazione va a casa di lui sta per cominciare a fare roba se non che c'è una voce che fa daddy e quindi si scopre che lui ha una figlia plot twist già rivelato e se questo è l'incipit vi lascio immaginare il resto un'altra storia de merda dei baci de merda abbiamo speso anche troppo tempo a parlare di questa comedy ma chiudiamo in bellezza con non ci resta che il crimine la serie la serie perché c'è anche non ci resta che il crimine il film del 2019 di massimiliano bruno ricordiamo massimiliano bruno è martellone per tutti gli amanti di boris si con protagonista alessandro gasman marco giallini edoardo leo e gianmarco tognazzi questi tra i top 4 asia argento frank matano anche qua tutti mescoli no ci sono no non c'è questa cosa ok ok non mi dispiace come trailer io non ho visto il film ma il trailer non mi dispiace è la classica cosa su ritorno al futuro all'italiana quindi loro vanno dietro nel tempo per una motivazione più o meno discutibile pensano di potersi arricchire tornano nel presente la situazione è andata ovviamente a puttane per cui devono ritornare nel passato a sistemare il tutto né più né meno già visto già sentito il taglio all'italiana potrebbe essere carino chi si aspetta il capolavoro probabilmente rimarrà deluso io onestamente penso che la guarderò è uno di quei prodotti proprio all'italiana lo vedi subito che è un prodotto leggero con comicità spicciola e una storia che come hai detto è molto semplice prendono appunto un concept però non ci saranno grosse problematiche dal punto di vista secondo me di come funziona l'universo i paradossi tutte queste cose sarà un po' così all'italiana facilotta però mi piace la scelta del cast sono tutti attori che comunque apprezzo c'è l'ispettore coliandro quindi questo mi sa che gli darò una chance nonostante non mi aspetti assolutamente il capolavoro ma neanche proprio da lontano esce primo dicembre questo va detto ha avuto la fortuna di capitare in un mese dove le alternative sono poche quindi potrebbe emergere dal mucchio e sono sei episodi in totale e usciranno su sky a due a due quindi primo dicembre e te lo finisci prima di natale serenamente e questa era l'ultima serie tv che ci siamo partendo sul gruppone direi che possiamo concludere con l'auspicio di recuperare tante serie tv che non abbiamo guardato negli scorsi mesi o anni nel mese di dicembre perché non benissimo possiamo concludere con un augurio il mio augurio di recuperare tutte le serie tv polacche degne di nota nel mese di dicembre Aldo il mio augurio di andare avanti con Alias e parlarvene entro la fine dell'anno ma non credo di riuscire a farla questa cosa il mio proposito perché il mio augurio suona proprio male è finalmente di iniziare uno dei recuperi storici tra Six Feet Under The Wire e Mad Men almeno uno vorrei iniziarlo perché sono recuperi lunghi e ce l'ho sul groppone da anni Federico il tuo augurio guardati pure le robe polacche dopo noi parleremo delle serie tv di livello e tu potrai fare i tuoi interventi come al solito ok allora mi fa piacere e ce lo ricordiamo questa cosa qua hai appena detto che serie tv di livello e ti guarderai Alias la chiudiamo qui stiamo parlando di The Wire no no stai parlando di Alias va bene comunque un saluto da Berlino da Edimburgo ma da Berlino il personaggio di La Casa del Papelo o da Berlino Berlino va bene dai lo rifaccio un salutino da Berlino un saliturgo da Edimburgo e ciao da Brescia tristezza ciao americane slash inglese ce ne sono meno di tre anzi meno di due comunque uno uno incredibile di You know, that gets funnier every time. You're being sarcastic, but I think it does actually get funnier every time.